continua la mia video rubrica sui nemici di una dieta efficace il secondo nemico di una dieta efficace è la mancanza di organizzazione la mancanza di organizzazione è uno dei più grandi problemi che riscontro nella maggior parte dei clienti che seguo perché perché l'organizzazione deve stare sempre alla base di un qualsiasi tipo di dieta premesso qualsiasi dieta ha dei vantaggi degli svantaggi dal punto di vista pratico nella difficoltà attuativa di messa a terra del programma ci sono diete più complesse diete meno complesse per esempio dicevo anche in altri video la dieta chetogenica è molto complessa la dieta low fodma è una dieta molto complessa da gestire e alcuni di altri dieti invece sono più semplici per esempio il digiuno intermittente per per motivi pratici è abbastanza sostenibile per esempio che si è abbastanza è organizzabile in maniera diciamo senza di mai senza grosse difficoltà dal punto di vista pratico però l'organizzazione un certo grado di organizzazione deve essere per forza previsto in questo caso perché perché ovviamente intraprendendo un programma alimentare usciamo da quello che è il caso cioè il consumare casualmente alimenti durante il giorno senza praticamente accorgersene quindi usciamo da quello che è il pilota automatico della della del del nostro nutrirci sostanzialmente che poi è anche il riflesso di quello che siamo più in automatico ti comporti male e più normalmente c'è del grasso in eccesso ci sono patologie magari metaboliche e esami del sangue che non vanno bene questo è assolutamente vero cioè quello che quello che sono i tuoi comportamenti alimentari di stile di vita riflettono poi la tua condizione fisica esterna e interna quindi cosa vuol dire quindi uscendo dal pilota automatico è normale che secondo per esempio le mie prescrizioni si dovranno consumare certi tipi di alimenti magari diversi da quelli che si consumavano prima e in certi momenti della giornata in cui magari non essere abituati a consumarli per esempio dal mangiare la non lo so la pasta o il panino a pranzo si passa a consumare per esempio un secondo e un contorno mettiamo ed è chiaro che questo comporta una serie di difficoltà magari all'inizio quindi difficoltà che per essere arginate e per essere e per non diventare difficoltà insormontabili cioè difficoltà dove ci si trova impreparati nel momento in cui devono essere affrontate e vanno vanno pianificate e quindi vanno vanno pianificate con un'organizzazione legata per esempio a il come fare la spesa in un'altra maniera il come preparare tutti questi pasti magari devono essere preparati a casa magari devono essere deve essere fatta una richiesta nel nel ristorante in cui si va a mangiare a pranzo rispetto all'ufficio a quando sei in ufficio è una richiesta specifica a questo ristoratore oppure bisogna bisogna fare altri tipi di cambiamento che però quindi richiedono che la pianificazione venga fatta prima e dunque stendere a priori un programma di pianificazione rispetto alla vita che deve essere fatta è fondamentale affinché poi nel quotidiano questa alimentazione rimanga facile rimanga pratica rimanga sostanzialmente un qualche cosa che fate senza difficoltà o comunque con difficoltà minimi perché perché difficoltà chiaramente la si può originare vero con la forza di volontà con con tutto quello che è la concentrazione su quello che si sta facendo però la forza di volontà un problema che ha è che ha una quantità finita di un certo livello che è finito quindi non è infinita e dunque e questa forza di volontà non la si dirige solo sulla dieta nel quotidiano a meno che non si sia non si è scusate atleti di che fanno di mestiere quello che fanno per esempio cristiano ronaldo è probabile che abbia una buona concentrazione quotidiana e una direzione della sua forza di volontà verso dieti allenamento perché perché il suo mestiere chi invece fa di mestiere altro e campa con altro è chiaro che deve fare anche la dieta attraverso la forza di volontà e quindi più questa forza di volontà è dirottata in alto per qualche motivo per imprevisti per complicazioni di qualche tipo e più è chiaro che la si perde da da dove la sera messa cioè sulla sulla di tre si sta facendo e per mantenersi a dieta nonostante la forza di volontà possa scemare in maniera diciamo fisiologica dopo dopo qualche periodo è importantissimo che questa dieta sia considerata e sia messa in pratica in maniera facile e quindi serve organizzazione quindi organizzazione nel far la spesa abbiamo detto organizzazione di dove consumere i pasti e come li consumerò organizzazione nel anche nel gestire la socialità perché anche quella è un fattore organizzazione nel gestire la famiglia o l'ecosistema in cui mi trovo a livello ambientale quindi con chi sono in casa o dei figli va gestita anche quella parte lì e tutte queste cose sono assolutamente fattori chiave poi nella buona riuscita del tuo programma alimentare e quindi la un nemico che non chiede con cui devi avere a che fare e che devi vincere è la mancanza di organizzazione quindi organizzati e pianifica la tua dieta prima di cominciare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti